Educazione ambientale, educazione alimentare e un invito a farlo a casa. Non per niente il nuovo appezzamento interno al cortile della scuola primaria di Ossimo Superiore si chiama l'Orto di Casa Mia, un'iniziativa nuova, originale, sposata da amministrazione comunale e associazioni del paese che a vario titolo hanno aiutato la realizzazione dell'orto scolastico. Un modo divertente per uscire dalle aule, apprezzare il raccolto e soprattutto curare qualcosa che solo l'attenzione aiuta a crescere. Obiettivo didattico, tornare alle origini, far riscoprire quanto è cosa buona e giusta, sfruttare la terra per poi mangiare ciò che si conosce. Tutte le classi vengono coinvolte fino alla fine dell'anno scolastico, nelle ore di scienze oppure durante la ricreazione o durante la pausa pranzo. Una sorta di chilometro zero tra scuola e famiglie degli alunni che aiuta ad occupare anche momenti morti diversamente passati senza un vero e proprio scopo. Prendere e copiare anche a casa perché l'orto torni nei giardini come alternativa anche per i più piccoli a tv e playstation. L'impegno è notevole, ora serve la buona mano del sole. Se cresceranno prima della fine della scuola, noi direttamente oppure al ritorno a settembre vedremo in che condizioni è l'orto.